Rete del Dono è una piattaforma di crowdfunding e personal fundraising in cui le non-profit presentano il loro progetto e coinvolgono i loro sostenitori, che siano individui o ad aziende, per attivare delle raccolte fondi e coinvolgere tutta la propria cerchia sociale per dare un contributo. Da quest'anno la partecipazione alla gara diventa un pretesto per chi partecipa, per attivarsi come personal fundraiser su Rete del Dono, aprire una pagina di raccolta fondi e invitare i propri amici a sostenere la propria gara. Che siano in Italia, che siano all'estero, non è più solo il runner che è donatore, ma diventa ambassadore e coinvolge tutti i propri amici in questa sfida solidale. In questo modo le non-profit hanno la possibilità di raccogliere fondi in un momento dell'anno che chiaramente non è il Natale, non sono altre occasioni importanti. E dunque un evento che ormai ha questa visibilità e uno strumento di raccolta fondi così virale permettono di rendere questa sinergia particolarmente produttiva.